Entusiasti di avere Avenaria Reale, una delle più grandi produzioni che si siano mai viste in Piemonte. Il grazie più grande va non soltanto al regista e a tutta la produzione, alla Eagle Pictures ai referenti italiani, ma un grazie va alla Film Commission con cui è nato un rapporto che c'era da tantissimo sicuramente per la Regia e per Villa Laghi per quanto riguarda la Mandria, ma che è iniziato per noi durante il Giro d'Italia. L'anno scorso in occasione di due corti di Aspettando il Giro, ricorderete che facciamo una grande serata in cui presentammo questi video fatti dai ragazzi dell'ufficio giovani della Factory del Comune di Avenaria Reale. Io scrissi e chiamai la Film Commission di Torino, parlai da Milano e gli chiesi se loro potevano presenziare a questa serata per gratificare il lavoro fatto dai ragazzi con 250 comparse in città. Furono molto carini, venne Paolo Manera, direttore della Film Commission e in quell'occasione gli chiesi di tornare con un gruppo a fare un sopralluogo a Avenaria per conoscere luoghi che sono ben lontani dalla Regia, che certamente non hanno magari lo stesso barocco e non hanno chiaramente subito lo stesso restauro, ma che sono luoghi di grandissima suggestione. Con loro siamo stati per mulini, siamo stati in luoghi in qualche modo dove ci sono grandi ruderi come la Beleno, come le caserme Gamera, abbiamo visto strade, vicoli, piccoli in qualche modo angoli che sono stati dalla Film Commission in qualche modo schedati e abbiamo un anno fa definito una convenzione affinché non solo quindi la Regia ma tutta la città di Veneria Reale fosse contemplata per delle produzioni. Dopodiché con grande gioia quando c'è stata l'occasione dopo poco di questa grande produzione che ha contattato la Film Commission e loro ci hanno detto che c'era interesse di ricreare dei luoghi di Sarajevo e che il regista aveva interesse non solo per la Galleria Grande, la Galleria di Diana e per Sant'Uberto, ma per dei luoghi del Borgo Storico, ci siamo quasi commossi e con gioia abbiamo appreso che voleva girare una scena molto importante in quello che è questo punto particolare di Via Mensa, l'incrocio con le vie 20 Settembre e con la via Cesare Battisti dove sarebbe stata ricreata un'importante situazione e questo abbiamo pensato che fosse importante per poter far sì che in un grande film che vedrà protagonista il lavoro di tantissimi perché stanno lavorando grandi location manager, grandi tv producer, c'è una troupe inglese di dimensioni faraoniche e quindi penso che sia un'opportunità per tutti perché c'è lavoro per tantissime maestranze piemontesi, c'è lavoro anche per la stampa stessa come voi che ci state gentilmente intervistando perché ci sono tante cose da raccontare, un set importante che è articolato tra Racconigi, Torino perché ci sono state scene già girate a Racconigi, altre girate in reggia nelle scorse giornate, poi le riprese sono proseguite a Torino, su lungo Podiaz, dopodiché gli allestimenti sono continuati qui a Veneria, qui dove ci troviamo gli allestimenti più particolari saranno fatti il 2 maggio e le riprese si svolgeranno tra il 4 maggio. Tutti quanti potranno continuare ad arrivare tranquillamente a casa, ci sono persone anche con difficoltà perché sono persone grandi di età piuttosto che con anche problematiche di disabilità che chiaramente devono poter arrivare a casa, persone molto gentili della sicurezza che ringrazio, li accompagnano affinché controllano che tutto si svolga nel migliore dei modi, ci sono chiaramente allestimenti che prevederanno anche smontaggi e ripristini, alcune attività saranno protagoniste durante il sette delle riprese come la panetteria e pasticceria che vediamo qui davanti dove addirittura il titolare sarà una comparsa e quindi si vedrà poi all'interno del film, certamente per il territorio c'è stato e ringrazio tutti i commercianti che hanno dato grande disponibilità i cittadini e gli abitanti della zona che hanno accolto con grande in qualche modo positività pur magari preoccupati di quelle che potevano essere poi la gestione del movimento per quelle che sono le ore di riprese, ma ci saranno chiaramente momenti di riprese e momenti di passaggio delle persone affinché tutti possano arrivare alle loro case. L'auspicio ma soprattutto la gioia più grande è che già oggi stesso in Comune abbiamo avuto un contatto per poter fare una grande sfilata di moda in Piazza Annunziata, abbiamo avuto delle altre richieste per poter fare dei sopralluoghi a Venaria Reale e io credo che una produzione di questo tipo che potrà raccontare in oltre 50 paesi contemporaneamente quando a febbraio uscirà in tutti i cinema di tutta Europa un film quale Kingsman 3 di cui i risultati del numero 1 e 2 parlano da soli, penso che essere orgogliosi di poter vedere nei titoli di coda la propria città, vedere la maestosità della reggia, la suggestione di un borgo storico che è davvero struggente, credo che tutto questo possa aiutarci anche a ricercare fondi per ripristinare tutto questo e speriamo che anche piccoli disagi di chi magari in questa occasione non è stata protagonista perché non sempre le riprese sono davanti a tutti noi, ma dobbiamo essere a volte felici anche di quello che coinvolge gli altri perché solo facendo squadra possiamo crescere e possiamo fare sì che il territorio richiami altre attività e altre iniziative importanti come queste e speriamo che il tempo sia con noi e ringrazio davvero tutti quelli che stanno lavorando a questa produzione. Grazie a tutti